Dopo una settimana di orrore e di terrore dobbiamo comprendere che andiamo verso una guerra simmetrica. Il nemico interno e tutti coloro che saranno conniventi con questo nemico interno saranno ugualmente responsabili. E queste ragazze sono conniventi? È una connivenza questa? Sono delle ragazze che vanno educate perché qui c'è uno scontro legato a due civiltà che forse sono incompatibili, dobbiamo dirlo. Quelle ragazze con la scuola devono essere unite per raccontarci una civiltà la nostra che per continuare a essere plurale ed accogliente deve avere delle regole condivise. La scuola ci racconta che servono dei valori condivisi e chi non rispetta il minuto di silenzio contro questo attentato che è stato un attentato contro l'umanità forse non condivide le regole della nostra civiltà.